Vuoi sapere la storia di questo pezzo? Sì, tu sai che sono sempre curiosa. C'è un altro artista che hai citato prima, che l'ho fatta in Sud America, perché io non sapevo che Nicola di Bari, in Sud America è un grande nome, tu sai che io lavoro tantissimo a Cuba, eccetera, eccetera, e quindi la sua versione si chiama De Noce, Sale e Le Sol. In italiano buon compleanno. Bene, grazie, buon compleanno a tutti. Senti, ma dove ci dirige questo profumino? Andami un po'. Guarda un po', la Magic Cooker. Allora Danilo, pronti gli spaghetti al pomodoro e basilico? Siamo prontissimi. Stavolta assaggi, dai. Ce l'hai io? No. No. Ah, bene, perché io sono allergico. Ok. Ma che profumo. I spaghetti sono pronti? Guarda, che belli poi. Un attentato alla mia linea. Il tuo piatto forte qual è? Quello. Per i primi o per i secondi? Quello lì che sta facendo, sì, sì. I primi sono... Gli spaghetti al pomodoro. E quando sei a Cuba? È un disastro. Che mangi? Eh, pollo. Eh. E basta. Qualche volta li trovo... Mettiamo un po' di sale. Li trovo pure gli spaghetti a Cuba. Dopo facciamo assaggiare anche a Marina, eh. Ah, certo. C'è tanto basilico, vedi? Allora, Danilo, giriamo il piatto. Ecco qui, facciamolo vedere in camera benissimo. Ma mettiamo anche i pomodorini sopra, che fanno anche colore. Guarda lì che meraviglia. Vai, Valerio, assaggia un po'. Solo questo vi fa ingrassare due chili, solo il profumo. Solo a vederli. Ricordiamo sempre tutto rigorosamente, seguito con Magic Cooker. Questo sistema innovativo di cottura, questo coperchio meraviglioso. Cucina sana, buona, genuina, con poco sale. Ah, pure il formaggio. Eh, certo. Sì, anche il parmigiano. Vedi, guarda, Danilo è eccezionale. È un cuoco fantastico. Ma ringraziamo soprattutto Magic Cooker. Anzi, io vorrei salutare anche la mia amica Lorena e Luciano Ferrari. Ciao, ragazzi. Girè? Tu no, eh. Allora, no, io purtroppo... Vorrei, vorrei. Ma devo lanciare la sigla di Confidenzialmente con sigla. Vorremmo sapere se sono buoni.